Il nome del Patris e Fili e Spiritus Santi. Amen. Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, va di fuori della porta della città. Usciamo dunque anche noi dall'accampamento e andiamo verso di Lui, portando il suo proprio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Gesù, per santificare il popolo con il suo proprio sangue, a subito della porta, soppondre anche a sa rencontre in l'ora del camp, portando l'immagrazione, perché non abbiamo passato di sì male di città permanente, ma siamo a la ricerca della città di Dio. Gesù, per consagrare il popolo con il proprio sangue, morì fuori dalla città. Siamo poi a trovare il popolo fuori del campamento, caragalmo su nostro obrugio, perché qui non abbiamo città permanente, andiamo sul bucchare del futuro. Gesù, attraverso il fuori del fuori del fuori del fuori del fuori, il fuori del fuori del fuori del fuori del fuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.